Carenza di personale infermieristico e di operatori sociosanitari, carichi di lavoro eccessivi, turni massacranti e conseguenti difficoltà a conciliare lavoro e vita privata. Il sindacato di professionisti sanitari Nursing Up in piazza Sassari per protestare contro una sanità definita allo sbaraio. La riforma del servizio sanitario non può essere soltanto sostituire le nomine dei direttori generali, non può essere soltanto spostare un ospedale dalla U di Sassari ad Alghero alla ASLE, ma deve essere una riforma all'interno dei reparti che crei i percorsi assistenziali benessere per i pazienti e per gli operatori. In più per poter venire a lavorare all'ospedale di Sassari bisogna pagarsi anche il parcheggio. In altri ospedali questo non accade, uno parcheggia tranquillamente, qua dobbiamo pagare, quindi anche questo è un salasso, già le retribuzioni sono anche le più basse a livello di tutte le regioni. Tutta una serie di criticità che compromettono l'appeal delle professioni sanitarie agli occhi dei giovani e in merito alla proposta avanzata dei sindacati confederali CGL e Cisle e Will di utilizzare una parte dei fondi destinati all'assunzione di infermieri professionali e OS per reclutare personale amministrativo nelle ASLE, Nursing Up non ci sta. Noi non abbiamo detto che non vogliamo gli amministrativi, vogliamo solamente che se i finanziamenti sono stati destinati per assumere gli infermieri professionali e gli OS, che in questo momento la carenza nei reparti sono proprio di queste figure sanitarie. Non è che noi non vogliamo gli amministrativi, perché gli amministrativi fanno parte anche loro della sanità, ma in questo momento l'urgenza è questa, è nei reparti. Accanto alla protesta di Nursing Up abbiamo raccolto anche la voce dei 173 operatori sociosanitari che con contratti interinali per quasi tre anni durante la pandemia hanno prestato servizio all'AO di Sassari che il 31 maggio di quest'anno, alla scadenza del contratto, sono rimasti tutti senza lavoro. In questi mesi per non perdere tale capitale professionale è stata avviata una selezione pubblica per titoli, ma nessuno dei 173 OS è riuscito a conquistare le prime posizioni della graduatoria. Adesso questi lavoratori di cui non si è tenuta in considerazione e la preziosa esperienza maturata in questi anni chiedono la continuità del proprio posto di lavoro. Entravamo alle 7 del mattino, uscivamo alle 2 del pomeriggio completamente bardati, sudati e molto stanchi perché comunque il lavoro è stato intenso, visto gli ingressi che c'erano sia a pronto soccorso che negli altri reparti. Essere liquidati così dopo tre anni e mezzo di lavoro, insomma, non mi sembra giusto. Venevamo chiamati gli angeli e da angeli ci hanno preso in giro e ora siamo tutti a casa.